Musica Bentrovati gentili telespettatori da Honor News, il telegiornale delle Marche di UTVRS, brevi di cronaca in apertura. È stato con ogni probabilità un infarto cardiaco a stroncare la vita di un operaio 54enne di polverigi morto mentre viaggiava a bordo della sua utilitaria proprio mentre stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. L'uomo celibe con problemi di obesità ha subito perso conoscenza e nonostante l'immediato arrivo dei sanitari provvisti di un defebbrillatore non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato un circolo ricreativo in via Mazzini a Civitanova Marche dove si praticava il gioco d'azzardo anche con congegni elettronici illegali e senza nessuna autorizzazione. Un'irruzione che ha permesso di scoprire che nel locale già da tempo attenzionato si continuava a praticare il gioco d'azzardo con tanto di denaro sui tavoli con panno verde. Soddisfatto il questore di Macerata Antonio Pignataro nessuno è al di sopra della legge. Ha commentato. Un'enorme quantità di piccola bigiotteria fuori legge sequestrata dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno. Vediamo il servizio. 220.000 articoli di piccola bigiotteria sequestrati in quanto fuori legge, cioè mancanti di ogni requisito di sicurezza, specialmente quelli relativi ad oggettistiche di piccole dimensioni, pericolosi per i più piccoli. È il bilancio dell'operazione Safe Jewelery condotta dalla Guardia di Finanza di Ascoli che ha messo nel mirino un extra comunitario di 36 anni, residente ad Albadriatica in Abruzzo, ma che gestiva una bancarella in piazza immacolata nel capoluogo Piceno. Effettuato un controllo sono emersi immediatamente molteplici irregolarità, come le mancate certificazioni della provenienza e sulle caratteristiche merceologiche della merce poste in vendita, per lo più collanine, orecchini, spille e braccialetti. Potrebbe essere irrogata una sanzione amministrativa pari a 26.000 euro. Il blitz rientra nella più ampia attività delle fiamme gialle per stroncare questo fenomeno. Ricordiamo che nel maggio scorso furono sequestrati 105.000 articoli, anch'essi fuori legge, in un centro commerciale di San Benedetto del Tronto. Ancora cronaca, una 87enne di Tolentino, di cui non si avevano più notizie, è stata trovata segregata in casa dal figlio, tra sporcizie, escrementi di animali e rifiuti. A salvarla ci ha pensato la polizia locale, dopo una segnalazione. Gli agenti hanno iniziato le indagini fino ad entrare nell'appartamento, che nel frattempo era diventato una specie di discarica. Il figlio, sessantenne, rischia di essere deferito all'autorità giudiziaria per maltrattamenti. Ci è voluto lo sfondamento di un finestrino e dell'unotto posteriore di un'auto per salvare dal rischio di soffocamento una ragazza di 28 anni di Milano, chiusa a Falconara Marittima in una vettura in cui l'aria caldissima era diventata irrespirabile. L'operazione dei vigili del fuoco è scattata dopo la segnalazione del fidanzato, mentre caricava i bagagli. Al giovane sono cadute le chiavi con il telecomando in un punto interno dell'auto non raggiungibile, proprio mentre chiudeva il portone. La ragazza era già salita e dunque è rimasta bloccata perché le porte non si aprivano. Fortunatamente per lei non ci sono state comunque conseguenze rilevanti. Cambiamo argomento, giornata piena a quella di ieri per la sanità maceratese, con ben tre inaugurazioni presso l'ospedale del capoluogo. Sentiamo i dettagli in questo servizio. Una nuova TAC per la radiologia d'urgenza interna al pronto soccorso per un valore di 350.000 euro. Una serie di attrezzature acquisite grazie ad una donazione privata a favore del reparto di pediatria e soprattutto l'inizio del percorso per combattere il carcinoma ovarico in collaborazione con l'ospedale Gemelli di Roma. Giornata intensa, quella di ieri per la sanità maceratese, ed un accenno non senza qualche polemica da parte del sindaco romano Carancini a chi cerca di frenare il nostro comio unico provinciale che come noto dovrebbe sorgere in località Lapieve nel capoluogo. Al di là di tutto c'è la grande attenzione verso l'ospedale ed il lavoro del suo personale che nella fattispecie ha indotto due sorelle a mettere a disposizione tra l'altro un lettino rianimazione in sala parto ed un'incubatrice per un valore di circa 100.000 euro. Ai tagli dei nastri presente anche il presidente della regione Ceriscioli. Sì, segno di investimenti importanti, alcuni organizzativi come quello del PDTA per i tumori ovarici una grandissima qualità, un modo di assistere e servire la donna straordinaria da tutti i punti di vista una presa in carico vero, un punto d'accesso dove chiunque avendo questi problemi si può recare e nel giro di poche ore arrivare a tutto il percorso di cura seguito direttamente dalla struttura ai professionisti da disposizione e risposte anche sulle cose più banali, concrete della vita quotidiana quelle esigenze che nascono quando cambia la tua esistenza ma non deve cambiare sentendosi soli ma deve cambiare sentendosi accompagnati da un sistema che funziona. Poi una TAC dedicata al pronto soccorso, 64 slide, poche radiazioni, tanta qualità una macchina tecnologica collegata con l'intera rete, un potenziamento notevole e delle risposte diagnostiche in urgenza, tenuto conto che qui a H24 c'è necessità di questa necessaria tecnologia e anche qui un altro elemento di qualificazione è quell'investimento tecnologico che abbiamo tanto inseguito in questi anni e che ogni volta ci dà grandi soddisfazioni. E infine una donazione, anche questo è un segno molto bello, fatto per i più piccoli, per la pediatria, per i neonati in modo particolare, tecnologie che rendono unico il servizio offerto qui a Macerata quindi disponibili solo in questa struttura, secondo quel principio che dicevo prima che attraverso l'investimento tecnologico si permette alle persone di lavorare meglio di dare più sicurezza a chi si rivolge alle nostre strutture in un quadro di servizio veramente completo e di grandissima qualità con un numero importante di parti che dà spessore alla struttura è stata anche la giornata per annunciare il fatto che il parto in dolore diventerà in realtà disponibile in questo importante servizio era una strana carenza, diciamola, rischio di dire sì fate tutto ma questo no qui adesso si farà veramente tutto e va a completare e rispondere ai bisogni delle pazienti che magari vogliono scegliere come opzione il parto in dolore e a quel punto troverebbero qui veramente un'offerta completa. Un 42enne è stato trovato riverso a terra i sanimi in overdose nei bagni della stazione di Senigallia questa mattina, allertati i soccorsi sul posto è arrivata un'ambulanza che ha provveduto a trasportare l'uomo all'ospedale qui ha ricevuto tutte le cure del caso e si è ripreso ma ora la polizia indaga per l'ennesimo caso di overdose in città nell'arco di pochi giorni. Le Marche risultano la regione italiana con la maggiore copertura di studi per la riduzione del rischio sismico l'87% dei comuni marchigiani è stato completamente microzonato tutti invece hanno avuto una verifica di primo livello la quasi totalità anche quella di secondo livello rimangono 26 comuni da completare con la conclusione degli studi prevista entro il 2020 e quanto emerge dall'ultima riunione della Commissione Tecnica Nazionale per gli studi di microzonazione sismica finalizzati a contenere i danni causati dai terremoti ieri in regione è stata presentata la nuova offerta formativa dell'Università di Camerino con la possibilità di formare esperti di governance nelle politiche migratorie europee ed in tecnologie innovative per i beni culturali l'occasione con il rettore Claudio Pettinari anche per parlare del primato di Unicam tra le piccole università sancito dal recentissimo rapporto Censis l'intervista Oggi siamo qua per un evento che dimostra la nostra grande attività anche nella creazione di nuovi percorsi formativi percorsi che ben si adattino a quelle che sono le esigenze del lavoro percorsi che abbiamo o progettato ex novo oppure diciamo riformulato proprio raccogliendo quelle che sono le indicazioni e le istanze sia dei territori, degli stakeholders che non che degli studenti e qui stiamo andando su due direzioni che credo siano strategiche per l'Italia una è quella della gestione dei flussi migratori sappiamo quanto questo tema sia all'ordine del giorno credo sia uno dei temi su tutti i canali RAI su tutti i canali televisivi, sulla stampa sempre più all'ordine del giorno e l'altro è quello invece su cui vorremmo far valere la nostra competenza e conoscenza che è il patrimonio culturale una valorizzazione del nostro patrimonio culturale che è possibile grazie al grande numero di scienziati e tecnologi che abbiamo in Ateneo e che lavorano su questo ci tengo a precisare che è una classifica diciamo noi abbiamo questo primato tra i piccoli Atenei sotto a 10.000 studenti ma in realtà la classifica porta dei valori assoluti dei valori assoluti e quei risultati sono confrontati fra tutti gli Atenei italiani e la cosa che a me piace ricordare è che comunque siamo ai vertici in quella classifica siamo al quarto posto questo ci dice al di là della posizione che può avere un significato diciamo di un tipo piuttosto che di un altro significa invece che tutte le azioni che stiamo mettendo in campo le borse di studio, i servizi, le strutture che stiamo predisponendo le attività di comunicazione e di internazionalizzazione sono ad alto livello, sono ad alto profilo e vengono riconosciute da un ente terzo non viene riconosciuta dall'università stessa e siamo allo sport, il mondo del calcio marchigiano e non solo è in lutto è scomparso infatti Ferruccio Zoboletti, storico ex presidente della San Benedettese negli anni 80 quelli per intenderci delle ultime apparizioni del club rosso-blu in serie B si era trasferito in Riviera dove si era messo in luce con la sua attività nel settore ortofrutticolo aveva 88 anni e lascia tre figli tra cui Afro, attuale presidente del circolo Tennis Maggioni unanime il cordoglio di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e da parte di diversi club, condoglianze sono giunte anche dall'Ascoli con il patron Pulcinelli ed il presidente Giuliano Tosti e siamo alla rubrica settimanale di ciclismo con la Gran Fondo Terre dei Varano che si correrà domenica 14 luglio con partenze d'arrivo a Camerino per l'organizzazione dell'Avis Frecciazzurre sentiamo l'intervista registrata per noi da Manolita Scocco Sandro Santacchi, mancano davvero pochi giorni a questa Terre dei Varano questa Gran Fondo che prevede delle novità anche se una notizia è sempre quella di esserci con grande entusiasmo di ritornare ad essere protagonisti di questi territori la Terre dei Varano è veramente l'emblema della nostra città e del suo territorio è una manifestazione molto partecipata sia per quanto riguarda i ciclisti ma molto partecipata per quanto riguarda proprio i miei concittadini per i quali rappresenta un motivo anche di partecipazione per renderla sempre così attrattiva come lo è stato per già dieci anni Qualche coordinata come percorsi, come caratteristiche e poi parleremo anche degli eventi Allora, come sempre, la Terre dei Varano è caratterizzata dalla salita simbolo che è quella da Sarnano a Sassotetto è una salita veramente impegnativa definita horse category con una lunghezza di 12 km circa e una pendenza media di 7,4% quindi questi dati a chi è del settore danno l'idea di che genere di ascesa sia quest'anno mi piace sottolineare che abbiamo inserito un tratto di percorso mai fatto finora che è quello che comprende il raggiungimento della località di Gualdo da Gualdo a Sarnano e pure questo, insomma, secondo me assomma delle caratteristiche particolari con stratti, contratti di ascesa veramente cattivi intervallati da una discesa che è molto tecnica e quindi sicuramente per chi piacerà questo genere di discesa troverà sicuramente un terreno molto provizio e molto bello da percorrere Approfondimenti in giovedì ciclismo delle 22.30 venerdì sulle strade alle 20.15 canale 111 e siamo al volley la Lardini Filottrano si dota della professionalità del dottor Michele Delbello nel ruolo di fisioterapista Montegiorgiese, 46 anni svolge la sua attività in ambito sportivo dal 1995 specializzato nella terapia manuale per il trattamento e la rieducazione di patologie muscoloscheletriche vanta numerose collaborazioni nello sport non solamente nella pallavolo ed andiamo ora a vedere le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 10 luglio Un vortice ciclonico si sposta verso il centro-sud provocando una fase di intenso maltempo mentre le condizioni migliorano su gran parte delle regioni settentrionali spostiamoci ora al centro dove avremo condizioni di maltempo con forti temporali e anche con locali grandinate su Marche, Abruzzo e Dumbria più baschi sono attesi inoltre sulle coste toscane concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste di notte i valori toccheranno punte minime di 15 gradi e non supereranno i 26 gradi su tutta l'Italia durante il giorno attendiamo invece fino a 29 gradi al nord fino a 31 al centro e punte di 42 gradi sulle regioni meridionali e concludiamo con la pallacanestro sarà Gianluca Pizzi il nuovo allenatore del Porto Sant'Elpidio Basket in Serie B il tecnico lo scorso anno è stato il vice allenatore dell'Uscente Schiavi 37 anni di Porto San Giorgio in panchina Gianluca ha mosso i primi passi prima con il Centro Asteria Basket Milano e poi nella storica Ebro Basket sempre di Milano budget ridotto organico giovane dice la società ma avanti tutto con orgoglio e grande senso di responsabilità e con questa notizia è davvero tutto per il nostro notiziario grazie per la cortesa attenzione a domani a domani a domani a domani